Bambino prodigio, era cantore già intorno ai dieci anni. Si acquistò ben presto una straordinaria fama per l'estensione della sua voce, per la sua personale tecnica respiratoria e per il fascino delle sue interpretazioni drammatiche. Si può considerare il primo vero divo fra i castrati. Conteso dalle principali corti d'Europa, si guadagnò una stima unanime, unendo al prestigio della sua carriera artistica una vita spesa interamente per la musica. Ricchissimo, lasciò tutti i suoi averi alla fondazione di un istituto di beneficenza e il rimpianto della sua arte presso i maggiori musicisti del tempo, che perdevano con lui uno dei maggiori interpreti delle loro melodie.